Saluti a tutti voi cari spettatori di MillePS TV. Husqvarna ci ha presentato silenziosamente e in segreto un nuovo modello di punta della Norden per il 2025. Rimane la Norden 901 Expedition e posso già anticipare che sarà ancora più orientata al comfort e alla capacità di lunghe percorrenze. La Norden 901 Expedition 2025 secondo me è una nuova spedizione molto intelligente e piacevole perché non è completamente nuova. Rimane praticamente tutto invariato se si può dire di una moto che ha meno di due anni ma il telaio di base, la sostanza principale, rimangono gli stessi. Il telaio in acciaio, le sospensioni WP Explorer completamente regolabili con un'escursione di 240 mm. Questi elementi sono già stati molto apprezzati dai clienti e dai potenziali acquirenti del 2025. Anche il motore rimane lo stesso, un bicilindrico in linea da 880-90 cm3 con 105 cavalli e 100 Nm di coppia. Il sistema di scarico è stato modificato solo per rispettare la norma Euro 5+. Husqvarna dichiara un consumo di carburante che si stabilizza grazie a questo serbatoio a due parti molto particolare che scende molto in basso e permette un'autonomia di quasi 400 km. Quindi dovrebbe essere anche un po' più parsimoniosa. Completamente nuova sulla Husqvarna Norden 901 Expedition è, come si vede chiaramente dalle immagini, una nuova colorazione che trovo abbia una sfumatura verdognola sul serbatoio. Interessante. Mi piaceva tantissimo quella blu. Beh, i gusti sono gusti. Ma quella blu mi piaceva molto. Tuttavia dovrò vederla dal vivo per capire se mi piace. Ma, come già accennato, ci sono anche più caratteristiche di comfort e di elettronica. L'MTC, Motorcycle Traction Control, ovvero il controllo di trazione, può essere regolato su dieci livelli, permettendo di adattarlo precisamente alle tue esigenze, a seconda di come vuoi impostarlo. Manopole riscaldate e una sella riscaldata sono di serie. Un parabrezza da turismo, una presa di ricarica USB-C e un nuovo sistema di lampeggio d'emergenza sono inclusi. Quindi le novità sono limitate, ma trovo che sia un aggiornamento intelligente e piacevole. Non è sempre necessario rifare tutto da capo. Ad esempio, il display TFT ha colori da 5 pollici. È incluso di serie, con funzioni di connettività. Rimane di queste dimensioni, immagino. Sì, nel gruppo KTM i modelli Adventure più grandi hanno già display TFT più grandi, ma probabilmente bisogna riservare qualcosa per la prossima Norden 901 e 991 Expedition. E sì, rimane anche il sistema di borse morbide da 36 litri. Il cavalletto centrale è incluso e questa robusta protezione, radiatore, motore, serbatoio, che trovo già molto evidente per la Norden 901, specialmente per l'Expedition, rimane anche. Non conosco ancora i prezzi, ma è prevedibile che, poiché queste modifiche sono limitate, il prezzo probabilmente non aumenterà di molto. Beh, questo è tutto per quanto riguarda le novità Husqvarna. A proposito, l'assistente per il cambio è di serie. Non è standard su tutti i modelli Husqvarna, ma lo è sulla Norden 901 Expedition. Sì, questo è tutto per questo modello Husqvarna. Vi invito a guardare anche tutte le altre novità sui modelli, che ora arriveranno sempre più spesso per l'anno 2025. Restate sintonizzati e fedeli a noi. E tutto ciò che mi resta da fare è chiedervi di iscrivervi al nostro canale e darvi un caloroso arrivederci.